Un'immagine più potente di mille parole e la tua farà il giro del mondo. Com'è andata? Torni a casa. Sì, sono qui vicino, sono all'aeroporto. Parti, andiamo! Portami via da qui! Queste sono le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza che mostrano i tre terroristi. Però le esplosioni sono state due. Una potrebbe non essere esplosa. O si è tirato indietro ed è vivo. Le prossime ore sono cruciali. C'è stato un attentato e il tuo padre non risponde! L'esplosivo sembra TATP e i sensori di movimento sembrano collegati a un LED lampeggiante rosso. Non ci possiamo permettere l'immagine di un civile che cammina nel centro di Madrid con una bomba che potrebbe esplodere in ogni momento. Commetti un errore. A che gioco stai giocando? Scommetto che non avevate mai incontrato uno come me. Andiamo! Forza, forza! Forza! Forza, forza!